Candidamente, podcast attorno al project management realizzato dal branch lombardia del project management institute northern italy chapter benvenuti a tutti e bentornati per chi già ci ascolta sono matteo fioravanti volontario del branch lombardia del northern italy chapter del pmi come sapete a ottobre si terrà il terzo forum nazionale di project management e il tema di quest'anno sarà la sostenibilità si tratta di un tema di interesse globale sia per il pmi che per le nazioni unite nel forum verranno presentati i migliori progetti in cui siano state applicate in modo originale le best practices di sostenibilità ad esempio in termini di utilizzo dell'energia in termini di scelta di materie prime rinnovabili o riduzione degli sprechi riutilizzo dei materiali in ottica di economia circolare contenimento dell'impatto ambientale rispetto del patrimonio intellettuale e delle preferenze professionali dei partecipanti uno dei progetti di più ampio respiro negli ultimi anni è stato quello di stefano abbano che ha affrontato alcune di queste tematiche nella gestione dell'espo di milano del 2015 stefano è oggi qua con noi e gli chiederei subito una breve presentazione personale buongiorno a tutti buongiorno matteo mi è stato chiesto di contribuire a questo webinar per fornire alcuni spunti relativamente a quanto è stato fatto in termini di sostenibilità durante expo 2015 io ho iniziato a lavorare in expo all'inizio della campagna di candidatura internazionale quindi nel 2007 è andato avanti per quasi dieci anni in precedenza avevo lavorato all'organizzazione di grandi eventi internazionali tra cui per esempio la firma della costituzione europea roma nel 2003 che aveva bloccato tutto la piazza del campidoglio centro storico eccetera il semestre italiano di presidenza dell'unione europea e altri ancora nel 2008 quando abbiamo ottenuto l'assegnazione dell'esposizione universale io ho iniziato a lavorare la pianificazione complessiva del progetto infatti proprio nel 2008 avevo terminato l'nba che ho fatto al politecnico di milano in seguito ho sentito il bisogno di consolidare la mia preparazione di project management così nel 2013 quando già ero responsabile la pianificazione di expo 2015 ho conseguito la certificazione pmp ho avuto la fortuna di essere parte di tutte le principali decisioni del progetto dall'inizio fino alla conclusione e di questo mi sento molto fortunato nel 16 al termine di expo ho preso un periodo sabbatico e in seguito ho iniziato a lavorare come consulente indipendente adesso sono in attesa di dedicarmi alla prossima grande sfida bene stefano comincerei con i condividere il legame tra la sostenibilità e il project management quando si comincia a condividere l'attenzione alla sostenibilità da parte dei project manager che esercitano la professione in azienda o in per quello che è la mia esperienza negli eventi anche internazionali che ho affrontato prima di lavorare in expo purtroppo il tema della sostenibilità ha avuto un ruolo piuttosto limitato stiamo parlando dei primi anni 2000 la loro dimensione tuttavia non era confrontabile con quella che ha avuto expo 2015 nei termini di durata qui dobbiamo pensare circa dieci anni della fase preparatoria non solo ai sei mesi dell'evento né in termini economici con expo 2015 tema della sostenibilità viene affrontato fin da quello che potrebbe essere paragonato in termini di disposizione universale a un project charter ossia il dossier di candidatura questo documento consistente di due tomi era stato preparato per illustrare agli stakeholder internazionali ma anche al territorio dove l'evento si sarebbe tenuto quali sarebbero state le sue principali caratteristiche nei requisiti internazionali per la candidatura la sostenibilità non era vincolante anche se il bureau internazional desespositions e diversi paesi principalmente quelli europei potremmo dire la consideravano una tematica importante per i paesi candidati maggiormente industrializzati il ruolo degli stakeholder quindi ha avuto un effetto di rilievo per consolidare quelle che ancora non era una consuetudine ma piuttosto potremmo considerarla una prassi soffermandomi un momento sulle tematiche più prettamente ambientali un intero capitolo del dossier di candidatura il quindicesimo intrecciava già l'impatto ambientale e la sostenibilità ispirandosi alle politiche ambientali dell'unione europea e alle pratiche diffuse in seno all'oECD leggendo le misure che erano previste in fase di candidatura infatti si capisce come la sostenibilità fosse affrontata in una doppia prospettiva da un lato stimare e monitorare e intervenire puntualmente su tutte quelle attività che potessero avere un impatto ambientale per il territorio ospitante dall'alto contribuire ad affermare come best practice alcune azioni a livello internazionali inclusi progetti con i paesi in via di sviluppo una possibile lettura di questa impostazione della candidatura consiste nella risposta anticipata alle legittime osservazioni di chi vedeva con preoccupazione l'impatto che l'evento avrebbe avuto in un'area intensamente sviluppata come Milano e la Lombardia al tempo uno dei commenti più frequenti anche sulla stampa nel dibattito era siamo già così sviluppati da un punto di vista infrastrutturale che non sapremmo bene dove collocare Expo 2015 infatti qualcuno si ricorderà che all'inizio si diceva facciamolo direttamente in fiera cosa in realtà impossibile per i regolamenti dell'esposizione universale anche se in seguito la declinazione di tutto quello che riguardava la sostenibilità in Expo 2015 è stata in parte differente da un punto di vista pratico questo primo lavoro era decisamente avanzato per quello che richiedeva una candidatura e ha avuto l'indubbio pregio di fissare l'asticella molto in alto sia per le candidature che sono succedute a quella italiana nelle Expo sia per quello che sarebbe poi dovuto realizzare nel nostro evento in questo modo è stato possibile ottenere risultati senza precedenti che hanno fatto di Expo Milano un benchmark in quanto a sostenibilità nei grandi eventi internazionali. La sostenibilità è stata però affrontata anche nelle altre componenti meno legate all'ambiente questo va detto ad esempio la società Expo 2015 ha dotato un codice etico che è stato fatto a sottoscrivere a tutti i partner legati al progetto e con questo si intende per esempio anche i fornitori. Inoltre la stessa struttura economica del business plan è stata improntata ad un concetto di sostenibilità vincolando quantomeno al pareggio i costi operativi e i ricavi mentre la componente di investimento nelle infrastrutture era vista come una legacy da lasciare al territorio quindi non era vincolata al pareggio. In realtà dal punto di vista operativo è stato fatto meglio del pareggio cioè c'è stato un avanzo. Tornando quindi al quando la risposta è da subito. Il merito di questo va attribuito sicuramente agli sponsor politici del progetto che hanno sostenuto questa impostazione dall'inizio e l'hanno mantenuta durante tutto l'arco del progetto. Grazie. In quali processi di project management si applicano i principi della sostenibilità in un grande evento? Abbiamo visto come il project charter contenesse già un approccio strutturato ai temi della sostenibilità quindi fino a gruppo dei processi di avvio del progetto il tema era fortemente presente. È stato però con la creazione della direzione sustainability management che quanto contenuto nel piano industriale e previsto nel dossier è stato ulteriormente sviluppato e precisato. l'organigramma correntemente con il piano dell'attività del progetto era impostato e a una salvaguardia delle risorse, a un'ottimizzazione delle risorse, era stato impostato in modo tale che le diverse funzioni aziendali fossero attivate solo e soltanto nel momento in cui l'avanzamento del progetto fosse arrivato a un punto di maturazione tale da consentire la loro piena operatività. Nel caso della sostenibilità la consapevolezza del numero di ambiti impattati ha fatto sì che la direzione e quindi anche dell'obiettivo da raggiungere ha fatto sì che la direzione fosse tra le prime ad essere attivata. La strategia di Expo 2015 per la sostenibilità sviluppata dalla direzione si è ispirata a quattro valori, la social legacy, l'inclusione, l'innovazione e la responsabilità sociale. Su queste basi Expo Milano ha perseguito più direttrici dal monitoraggio degli effetti ambientali e la loro compensazione immediata fino alle politiche di riuso durante e dopo il semestre. Dal 2013 al 2015 nella fase di preparazione del sito espositivo la società ha pubblicato rapporti di sostenibilità secondo le linee guida GRI-G4 del Global Reporting Initiatives. Inoltre quella di Milano è stata la prima esposizione universale ad aver attivato un sistema di gestione per la sostenibilità dell'evento certificato Uni ISO 2021 2013 sia per la fase di pianificazione dell'evento e preparazione del sito espositivo sia per la fase di attuazione e gestione. Questo sistema tramite obiettivi definiti e monitorati ha permesso di innalzare il livello complessivo di sostenibilità. Le iniziative non miravano soltanto ottimizzare l'impatto dell'evento ma anche a sperimentare pratiche virtuose per l'organizzazione di eventi in futuro. Quanto detto illustra come tutti i gruppi di processi di project management siano coinvolto nelle tematiche della sostenibilità. Alcuni esempi di iniziative possono però chiarire ulteriormente in modo più concreto. La realizzazione dell'esposizione universale per esempio ha coinvolto una pluralità di istituzioni italiane e straniere, questo è chiaro. Per capire l'importanza del coordinamento di questi stakeholder esterni e in certa misura indipendenti basta pensare che i soli paesi partecipanti hanno investito approssimativamente un miliardo di euro per la loro partecipazione a Expo 2015. In questo contesto la società Expo 2015 ha svolto un ruolo da pivot per indirizzare in maniera virtuosa gli investimenti e offrire supporto ai processi di decision making di questi soggetti. È in questa prospettiva che sono state redatte per esempio le linee guida di Green Public Procurement applicate dalla società Expo 2015 in tutte le attività proprie ma in larga misura vincolanti anche per tutti i paesi partecipanti e per i partner di Expo 2015. Queste misure hanno avuto impatto su tutti i processi dell'area Procurement e hanno consentito di sviluppare uno degli aspetti di legacy più importante. L'attenzione alla sostenibilità è stata fortemente presente anche in tutta la componente infrastrutturale di Expo 2015. Sin dalla registrazione la società si è impegnata a fare riferimento ai criteri di sistema statunitense LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, ottenendo la certificazione LEED Platinum per Cascina Triulsa che attualmente è tuttora presente come infrastruttura sul sito, non è una di quelle temporanee e quindi è una legacy definitiva, diciamo così, di lungo termine. Inoltre in seguito all'ultima verifica condotta nel 2015 dal ICMQ, l'Istituto di Certificazione Marco di Qualità per i prodotti e servizi nelle costruzioni, il sito espositivo è stato riconosciuto ad un livello di certificazione potenziale, questo perché non è stata richiesta la certificazione vista la natura temporanea dell'evento. Altrettanto è stato fatto per quanto riguarda le strutture costruite dai paesi partecipanti, quindi questo deriva dal Green Public Procurement eccetera. Nelle linee guida dedicata alla costruzione dei padiglioni Expo ha chiamato i partecipanti a progettare e realizzare edifici temporanei e sostenibili in un'ottica orientata ai criteri di impatto ambientale e di attenzione al ciclo di vita dei materiali e dei componenti e ha fissato alcuni principi per avere il minore impatto possibile. È stato imposto ad esempio di mantenere il 30% della superficie dei lotti assegnati aperta o a verde e di prevedere un tetto verde che coprisse almeno il 50% della superficie del padiglione. Le strutture avevano a disposizione una potenza elettrica utilizzabile limitata a 900 kilowatt e non è stato semplice perché molti ne chiedevano parecchia di più, c'è stato un paese asiatico che è arrivato a una richiesta di 2500 in prima battuta quando il massimo poteva essere 900 e dovevano utilizzare materie provenienti dal riciclo per almeno la metà del totale. Tutto questo poi è stato monitorato su una base anche volontaria però mentre per esempio i vincoli di costruzione sul 50% del tetto eccetera, un terzo l'area verde eccetera, erano obbligatori, altre cose come quello dei materiali eccetera erano più un invito perché in alcuni casi poi non era possibile proprio a causa del materiale. Le norme e le indicazioni miravano a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva, l'inominazione dei locali, consumi idrici, la produzione dei rifiuti, l'effetto isola di calore e per contro ampliare il più possibile l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Ecco oggi si comincia a parlare di green project management, quanto la tematica innovativa e quanto è calabile nelle realtà progettuali che si vivono sul territorio e nei modelli di business in Italia? Credo che in ambito di project management l'arricchimento delle competenze in ottica di sostenibilità sia molto utile, questo consentirebbe al PM di supportare diversi professionisti colmando un effetto a macchia di leopardo delle competenze che talvolta si può ancora percepire. Durante Expo c'è sicuramente stato un lavoro di formazione sul campo per molti professionisti che sono stati coinvolti nei molti progetti svolti. Uno dei grandi pregi di un evento come l'esposizione che abbiamo ospitato è stato secondo me, e non viene necessariamente mappato dai varie ricerche di Cisone, è stato secondo me quello di rappresentare una palestra per molti giovani professionisti che attualmente ricoprono incarichi di responsabilità sia nel privato che nelle diverse istituzioni locali che hanno reso possibile Expo 2015. Questa eredità di competenze è sicuramente un grande patrimonio per il territorio. Inoltre durante la fase di preparazione dell'evento la società Expo 2015 ha svolto un'attività di affiancamento e supporto alla progettazione dei padiglioni dei paesi partecipanti. Abbiamo potuto verificare quante aziende in Italia abbiano ottenuto importanti contratti proprio grazie all'eccellenza nei settori legati alla sostenibilità e alle tecnologie e materiali a questa connessi. Direi quindi che la tematica è quanto mai attuale, il business è totalmente ricettivo in tal senso. Alla luce di quanto ci hai raccontato, hai degli esempi che quanto è stato fatto abbia lasciato un legacy per i progetti futuri? Da un punto di vista di legacy immateriale, se vogliamo, vale quanto accennato prima rispetto al capitale di competenze create durante Expo e che ora lavorano in molte aziende, la pubblica amministrazione. Su un piano più di progetti concreti, quando abbiamo fissato le linee guida improntate alla sostenibilità abbiamo invitato i paesi a pensare quanto più possibile al riuso del loro padiglione dopo Expo 2015, data la natura temporanea dell'evento. E molti padiglioni stanno ora avendo una seconda vita, ad esempio il padiglione del Regno Unito è stato trasferito in un parco in Inghilterra, mentre il padiglione del Principato di Monaco è stato donato alla Croce Rossa che ne ha fatto un centro di training medico in Burkina Faso. Tornando invece a Milano, lo sviluppo di un sito espositivo creato in ottica di sostenibilità ha fatto sì che diversi investimenti infrastrutturali fossero resi prioritari, in particolare il sistema delle vie d'acqua necessario al raffrescamento delle strutture del sito ha comportato l'ammodernamento del sistema dei canali a livello regionale e anche a rifacimento della Darsena. Anche le future Expo confermano la scelta fatta da Milano. La prossima esposizione universale che si terrà a Dubai nel 2020, quindi a partire dal 20 ottobre dell'anno prossimo, ha come tematica principale Connecting Minds Creating the Future e uno dei tre sottotemi è dedicato interamente alla sostenibilità, ma però ho notato che ampliando quanto fatto da Expo 2015 un terzo del sito sarà interamente dedicato allo sviluppo di questa tematica, che quindi sarà il principale argomento della partecipazione dei Paesi, il cui padiglione sarà collocato in questo settore. Ottimo! Ringrazio molto Stefano per il contributo e gli spunti forniti. Ringrazio e saluto chi ci ha ascoltato. Grazie, saluti a tutti e a risentirci al prossimo episodio. Bene, siamo alla fine. Un grazie ai nostri ospiti di oggi e a risentirci al prossimo podcast, normalmente un'edizione al mese, ascoltabile tramite iTunes, SoundCloud o scaricabile come file dal sito PMI Northern Italy Chapter www.pmi-nic.org. Ricordate di mandarci il feedback di gradimento. Istruzioni sempre sul sito del PMI NIC. Arrivederci candidamente! Grazie a tutti! Grazie a tutti!